Ragazzi, lo so, c'è il Team Rocket in giro per la Pixelmon, però ho appena scoperto una cosa nel nuovo aggiornamento di questa bellissima versione della mia Pixelmon personale. Ragazzi, hanno aggiunto nei biomi della Ultra Dimensioni dei laboratori segreti. Non ho ancora capito se sono dei laboratori dei mini biomi all'interno dei biomi o queste cose qua, perché la spiegazione all'interno dei log dell'aggiornamento della Pixelmon non spiegava molto bene come erano giostrati, ma c'è la possibilità di trovare dei Pokémon leggendari Shiny all'interno della Ultra Dimensione. Avete capito molto bene, ragazzi, quindi oggi andiamo alla ricerca del nostro primo Pokémon Shiny e, ragazzi, mi raccomando, per questo evento speciale dobbiamo superare i 5.000 mi piace, ragazzi. A voi non costa nulla, quindi lasciate il mio mi piace che è molto importante e io sono già carichissimo, ragazzi. Sono veramente carico come una molla. Non ho su come ancora la mia armatura della Ultra Dimensione, però guardate, già la prendo perché voglio essere bello che aggressivo e bello che pronto. In più, devo craftare comunque le mie Ultra Ball, perché noi, come sempre, dobbiamo craftare le nostre Ultra Ball. Qua già avevamo tutto quanto bello che pronto dagli ultimi episodi, perché una volta, vi ricordo, che mi aveva avuto la pazzia e avevo craftato una roba come due stack e mezzo di Ultra Ball. Che poi, queste due stack e mezzo di Ultra Ball se ne siano completamente andati così al bar, ragazzi. È un altro discorso. Comunque, dobbiamo togliere assolutamente palchia dalla mia squadra Pokémon leggendari, perché non dico che è inutile, però quasi. E rimettiamo il nostro Lugia, perché ricordiamoci che il nostro Lugia, che ha questo bellissimo Pokémon di zero catturato in una Master Ball. Ha comunque delle mosse tipo acqua, se non mi sbaglio, Lugia. Facciamo così, tiriamolo un attimino fuori, guardiamolo per bene... No, questo c'è Charizard, scusatemi, buongiorno. Tidiamo fuori il nostro Lugia catturato con la Master Ball, che è uno spettacolo, e controlliamo che mosse ha, perché lui tecnicamente ha Surf, Thunder, Hurricane, Iron Tail. Comunque, sono tutti quanti delle mosse che sono veramente molto forti. Ragazzi, questo Lugia qui dà un po' che non utilizzavo con me in squadra, eh. Ebbene sì, ragazzi, oggi ce lo portiamo con noi in battaglia. In più, tanti di me hanno commentato, Marco rimetti Photon Geyser a Necrozma nel video scorso, perché sono usciti dopo un sacco di tempo, quindi ho letto i commenti, e c'è Photon Geyser che l'ho fatto rimparare con un ricordamossi, ragazzi. Però, oggi, la cosa più importante, quindi, è dirigerci verso la nostra, non Lugia, ultradimensione, perché la dimensione di Lugia ancora non esiste, non esisterà, credo mai. E arriviamo direttamente al nostro portale. Io, ragazzi, quasi quasi, questi cartelli, mi prendo me le porte in saccocia, perché a quanto pare, quindi, anche la base dove noi abbiamo rubato le Master Ball con Kendal, era la base che utilizzava il Team Rocket per appoggiarsi qua all'interno del mondo, perché a quanto pare il Team Rocket si nasconde all'interno della ultradimensione. Dov'è? Adesso, scusatemi, il mio flauto della Luna. Allora, non so dove sia, ma abbiamo qua due caramelle rare che possiamo portarcele, anzi, sapete cosa facciamo? No, 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 ma perché lo snowver mi è passato esattamente davanti in questo modo? Prendiamo e diamo così a Lugia, così lo portiamo a 90. Sky attacco! Oh! Ma? A seconda un attacco? Allora, quindi è un attacco che si fa al secondo turno, che fa sempre dei critici importantissimi, però, ragazzi, attacca al secondo turno. Hurricane, che faccio? Io lo faccio imparare, non glielo faccio imparare, non glielo faccio imparare, non glielo faccio imparare, ma sì, ragazzi. Al posto di Hurricane, io lo faccio imparare perché è un attacco bello che potente. In più, sono andato a recuperare il mio bellissimo flauto della Luna e possiamo andare, quindi, all'interno della ultradimensione. Io, ragazzi, sono veramente molto, molto, molto curioso. Dove voglio andare, ragazzi? Non lo so, possiamo andare magari verso questa direzione qua, con la speranza, quindi, di trovare quello che stiamo cercando. Andiamo verso di qua, non lo so, verso questa direzione qua. Seguiamo, per esempio, un meno... Andiamo verso il meno con le Z, con le X, scusatemi. E teniamo, invece, anche qua, il meno verso le Z. Sì, quindi sempre questa direzione qua, poi mi dobbiamo seguire. Tiriamo sempre dritti. E vediamo, quindi, se riusciamo a trovare questi dannatissimi laboratori o questi nuovi biomi, appunto, grazie al nuovo aggiornamento della Pixelmon. Io sono veramente troppo felice, ragazzi. In più, vi ricordo, che oltre che a dover catturare tutti quanti i Pokémon leggendari per completare almeno il Pokédex dei leggendari, c'è anche da pensare a catturare anche le ultracriature, ragazzi. Quindi, gli episodi di esplorazione arriveranno. So che vi piacciono veramente tantissimo, ragazzi. Però arriveranno anche quelli, ve lo prometto, ragazzi, ve lo prometto. Però, comunque, qua... Osserviamo che, per esempio, questi biomi qui io non me li ricordo in questa zona. Quindi, comunque, noi... Non lo so, o li ho flashati, ragazzi, oppure mi sto sbagliando. Però, proviamo ad andare sempre verso questa direzione qua. Tiriamo un attimino dritti. Fermi, fermi, fermi. Perché ci sono le statue di Mewtwo? Ci sono le statue di Mewtwo! Ragazzi! Mi sa, mi sa, che abbiamo trovato questo mini dungeon con delle statue di Mewtwo. Ok, allora, curiosa come roba, ragazzi. Perché il dungeon è completamente viola. Come è viola, appunto, la ultra giungla. Ed è viola anche Mewtwo. Però, ricordiamoci che Mewtwo Shiny è verde. Che è, comunque, il colore della giungla quando è Minecraft normale. Quindi, potrebbe essere tutto ricollegabile. Allora, non lo so. Non so, ragazzi. Sono molto, molto... Uh, c'è una scala. C'è una scala che si scende, ragazzi. Guardate che belle che sono se state di Mewtwo. Non so, io quasi, quasi una me la rubo, ragazzi. Non so se faccio casino o qualcos'altro, però l'abbiamo rubata una statuettina di Mewtwo. Rubiamone una anche per Kendal. Prendiamo anche questa qui, sennò Kendal poi mi picchia. Però, ragazzi, sarebbe leggendario se questo qui fosse il dungeon per il Mewtwo Shiny. Ci ho pensato ora, quindi. Scendiamo. È Bedrock. È tutto quanto full Bedrock qua sotto. Ok, scendiamo, scendiamo, scendiamo. Mi sembra tanto un laboratorio. Assomiglia a Giovanni, più che a un dottore questo qui, ragazzi. Giovanni dei Pokémon. Allora, è interagibile? No. Quindi questa qui non è niente con cui possiamo clonare. È proprio un laboratorio malmesso, proprio messo male. Vabbè, allora, facciamo così. Noi, in questa battaglia, lanciamoli subito Necroz. Ma credo che si possa sfidare. Io ci provo, ragazzi. Vediamo un attimino. Allora, no, scusatemi. Voglio uscire da questa roba. Possiamo non buggare. Uh, ha scritto. Benvenuto nel bunker di contenimento. Ma io volevo leggerlo. Cavolo! Ragazzi, ma questo qui è Mewtwo corazzato. Leggiamolo velocissimo. Ma, mmm. È un fail dopo l'altro? Allora, ok. Benvenuto nel contenimento di Mewtwo Shiny. Sei pronto a sfidare le forme più potenti di Mewtwo? Anche secondo me non sarai pronto. Allora, ha scritto quindi che noi in questo momento andremo a sfidare tutte le forme più potenti di Mewtwo contro questo. E ragazzi, se vinciamo la battaglia, credo che sbloccheremo Mewtwo Shiny. Non so se ci verrà dato direttamente o meno. Non ne ho la propria idea, ragazzi. Allora, facciamo questa battaglia, ragazzi. Mewtwo scorazzato contro Necrozma Ultra. Vediamo un attimino cosa uscirà da questa battaglia. Io sono veramente, ragazzi, super felice di sfidare per la prima volta Mewtwo corazzato. È bellissimo. Allora, non è molto efficace l'attacco che abbiamo appena fatto, però gli facciamo una mossa Z e vediamo se riusciamo a fargli un po' più di danno. No. Sempre vita gialla. Allora, io a questo punto, ragazzi, vado di Prismatic Laser. Vediamo... No, anche questo non gli ha fatto molto danno. Lì non ci ha attaccato. Non so, perché praticamente saranno tre, quindi, le forme di Mewtwo che andrò a sfidare. Hyper Beam l'ha lasciato con pochissimo. Lui è al 120, comunque, ragazzi. È un Mewtwo al 120. Però io sarei stato ancora più felice... Mi ha fatto fuori Necrozma con un PS di vita. Dicevo, sarei stato molto più felice se avessi trovato a questo punto il Mewtwo corazzato rispetto a quello che è Shiny. Allora, facciamo così. Chi mettiamo in campo? Mettiamo in campo un bel Lugia. Andiamo di Lugia, andiamo di Lugia. Andiamo di Thunder. Vediamo se riusciamo a farlo fuori. Perché il mio Lugia, mi ricordo che era bello che veloce. Abbiamo contro noi Mewtwo Shiny al 120, ragazzi. Mewtwo Shiny al 120. Andiamo di Iron Tenantino. Vediamo se riusciamo a fargli un po' di danno. No, non riusciamo a fargli niente. Thunder, magari lo paralizziamo. Ok, l'abbiamo paralizzato. Mamma mia, ragazzi. Ottimo. Andiamo di Surf, che anche questo toglie un bel po' di danno. Ma lui ci ha attaccato lo stesso. Andiamo di Sky Attack, ragazzi. Lui ha failato. Gli abbiamo fatto un sacco di danno. Però ci ha fatto fuori il Lugia. Ok. Calma. Calma, calma, calma. Graudon. Arco Graudo contro Mewtwo Shiny. Ma queste battaglie qua epiche, ragazzi. Dove cavolo le vedete? Sono fantastiche. Allora, continuiamo, 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 continuiamo. Vediamo qua. Praticamente con un Free Side Blades dovremmo farlo fuori. Bravo, Marco. E ora abbiamo un Mewtwo versione Halloween. No, che spettacolo, ragazzi. Questo vuol dire che possiamo sbloccare tutte le varie forme di Mewtwo all'interno di questi laboratori. Ah, io non ho veramente parole, ragazzi. Non ho parole. Facciamolo fuori. Dai che ce la facciamo. Vediamo, vediamo, vediamo. No, per favore. Ok, l'abbiamo fatto fuori. Non è più Pokémon? Abbiamo vinto la battaglia. Ma c'era scritto che non ero pronto, ragazzi, a sconfiggerlo. Allora, lui non è interagibile. Io qua non posso ottenere nulla, ragazzi. Io a questo punto provo a risalire un attimino sopra perché, a quanto pare, comunque non mi veniva dato lì il Mewtwo. Uh! Quindi, tecnicamente, è spawnato qua. Allora, proviamo ad andare così in battaglia. Quindi noi riusciamo a sfidare un Mewtwo all'80 Shiny. Allora, Mewtwo all'80 Shiny. Andiamo di Dark Ray e andiamo di Dark Void. Così proviamo un attimino ad addormentarlo in qualche modo. Però sembra che lui non faccia... Ok, lo ha preso l'attacco. Però, con me, io, ragazzi, non ho più Master Ball. Non l'ho presa prima. Non ho preso la Master Ball, io, ragazzi. Non ho preso la Master Ball. Eh, ok. Vabbè, non ho preso la Master Ball. Sono stato anche io, comunque, stupido. Perché, comunque, le Master Ball del Team Rocket che gli ho rubato ce le avevo lì in casa. Eh, non l'ho presa. Non l'ho presa, ragazzi. Sono stato veramente poco, poco furbo. Allora, di cosa vado? Di Omnus Mind. Almeno gli facciamo un po' di danno. In più, gli ho addormentato Dream Eater, vita rossa. A sto punto cambiamo e mettiamo in campo Groudon. In più, ragazzi, comunque, ho tutti quanti i Pokémon completamente quasi distrutti dalla battaglia. Quindi, anche questo dungeon è bello cattivo. Perché, essendo che sono lontano da casa, non posso neanche curarli i Pokémon. Quindi, nel momento in cui io sconfiggo, comunque, colui che difende il dungeon, la zona di contenimento, dopo la battaglia devo farla con i Pokémon che mi rimangono. Quindi, devo essere prontissimo a fare queste battaglie. Bello, mi piace, ragazzi. Mi piace questa nuova cosa. Allora, continuiamo. Vediamo a sto punto, ragazzi. Voi che Pokémon leggendario Shiny vorreste vedere, quindi, nelle prossime sfide? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché sono curioso quanto vuoi anche io. Allora, un giro. Questo qua continua a fare un giro, ragazzi, a vita rossa. Cioè, io non so cosa fare. Non ne ho le po' di idea. A vita rossa e fa solo un giro nelle Ultra Ball. Due giri. Due giri. Due giri, ragazzi. Due giri. Allora, continuiamo. Freghiamocene altamente. A sto punto andiamo di Ultra Ball. È un peccato che io non abbia preso quelle Master Ball là, ragazzi. È veramente un peccato. Terzo giro? È il terzo giro, ragazzi. Facciamo qualcosa tipo di ignorante, magari. Proviamo a tipotizzare questa GS Ball. Non so cosa sia. Non so cosa serva. Un giro. Un giro solo. Vabbè, io le finisco, queste GS Ball, perché, secondo me, sono completamente inutili. E sarebbe leggendario, comunque, prendere un Mewtwo così con queste GS Ball. Però, a quanto pare, non vuole entrare dentro le Poké Ball ignoranti. Lui, secondo me, vuole solo le Master Ball. Solo che io non ce l'ho con me in questo momento, quindi... Ma questo Mewtwo, comunque, non ha attacchi, a quanto pare. Eh, l'ho detto, Psycho Cat. Io non devo parlare, ragazzi. Io non devo mai parlare. È uscito dalla GS Ball. E cosa utilizziamo? Non ho le Velox Ball. Questa è una cosa molto cattiva. Devo riprendere a craftare tante Ball, ragazzi. Nel prossimo episodio, promesso, le facciamo. E... No, era il terzo giro. Era il terzo giro, sto dannato schifoso maledetto. Allora, Groudon contro Mewtwo. Mewtwo, comunque, solo Psycho Cat, a quanto pare di attacchi, ragazzi. Malino, malino. Però, comunque, sempre migliorabile Mewtwo con le mosse. Qua, Psycho Cat ancora. Ragazzi, dopo abbiamo solo Eternatus e Charizard, eh. Due giri. Ha fatto il secondo giro. Era un altro Psycho Cat. Ok. No, abbiamo ancora Dark Ray, in realtà. Abbiamo ancora Dark Ray in questa battaglia, matta. Allora, andiamo ancora qua di Ultra Ball. Vediamo se di Ultra Ball ci entra. Un giro. Due giri. No, il secondo giro ancora. Non iniziamo con la maledizione dei secondi giro, ragazzi. Per favore. Uno. Due. Due giri. Maledizione dei due giri attivata, ragazzi. È proprio il tastino. Maledizione attiva. Pum, attivo. Due giri. E il secondo giro esce, eh. Ti pareva. Vita rossa. Piena rossa. Non posso neanche più toccarlo. Che sarà muore. Due giri. Lui esce. Secondo giro esci. Terzo giro sei dentro? Terzo giro sei uscito, però. Campione. La vedo bella cattiva, comunque, come battaglia, ragazzi. Qua non riusciamo a vivi, secondo me. Qua, secondo me, non so se riusciamo a trovare questo Mewtwo. Cioè, l'abbiamo trovato. Non so se riusciamo a catturarlo, però. Perché se questo qui poi finisce tutte le mosse, si fa del male. Ed spawna completamente. Quindi è ancora peggio questa cosa. Però, eh... Continua l'alzazione di difese. Come danni, lui ha solamente Psycho Cat. Allora, faccio una cosa, ragazzi. Adesso, quasi quasi, io utilizzo le ultime due Ultra Ball. In pratica, utilizzo una tecnica molto strana. Esco dalla battaglia e provo a rifare un'altra battaglia. Perché così Mewtwo si ricura tutta quanta la vita. E riprende tutti quanti i pipì di vita. E, scusatemi, i pipì delle mosse. Così non può autofarsi il danno perché poi non ha più mossa da utilizzare. Utilizziamo le ultime Ultra Ball, provando a ricatturarlo. Così rifacciamo ancora la battaglia e lui non despauna e non muore. È una tecnica un po' strana, però spero che voi l'abbiate capita. Se non l'avete capita, scrivetelo nei commenti che ve la spiego io direttamente nei commenti. Però, utilizziamo le ultime due Ultra Ball in questo momento. Questa era la prima. Utilizziamo ora la seconda, se no rifacciamo ancora la battaglia uscendo direttamente e risfidandolo. Con la speranza, no, non... Allora, no, no, ho utilizzato un'altra Ultra Ball, sono stupido. Ho sbagliato. Uno, due... No, allora, con calma. Usciamo dalla battaglia. Lui non dovrebbe... Non posso più uscire? Ok, sono uscito. Non scapparmi, oh! Dove sta andando, campione? Ok. Vedete che si è ripristinato la vita? Ora posso rifare la battaglia e lui ha ancora tutte quante le mosse da riutilizzare, tecnicamente. Quindi, non potrebbe farsi del danno, però noi non possiamo... Eh, dobbiamo abbassarlo così di vita, ragazzi. Eh, diamine. Beh, pur di non perdere, ragazzi, comunque dobbiamo fare qualcosa di strano, qualche mossa strana. Dark Void non ha più utilizzi. Eh, Dark Pass lo shottiamo. Eh, allora. Riproviamoci, vediamo. Minus Mind, mamma, ancora con vita rossa, ragazzi. Quindi, tecnicamente, prima ho fatto pure un critico. Ok, tanto lì sta usando Psycho Cut, che sul mio Dark Ray non è efficace. Quindi, ottima come roba. Beh, secondo me abbiamo fatto un'ottima roba, ragazzi. Abbiamo fatto un'ottima mostra. Qua abbiamo la Ultra Ball che sta girando. Lui continua a uscire, ragazzi. Mamma mia. Mewtwo Shiny, comunque, è il triplo più difficile di catturare tutti quanti gli altri due Mewtwo che abbiamo catturato. Sia quello con... No, è uscito al terzo, dicevo. Sia quello con Kendall e sia quello che ho catturato da me da solo. È bello tosso da catturare. Guardate qua la Ultra Ball. Due giri. Ancora due giri. Mamma mia, ragazzi. Sto finendo le Ultra Ball, ve lo giuro. C'ho solo 12 Ultra Ball. No, ragazzi. Mamma mia. Che ansia. Che ansia. Due giri. No, 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 no. Non si può fare questa cosa. Eh, Timer Ball. Preso! Preso! Oh, mio Dio! Di repeat ball! Di repeat ball! Non ci credo! Non ci... No, ragazzi. Poi ho urlato. Preso, preso, preso come appunto l'achievement per catturare la repeat ball. Non ci credo. Ragazzi, guardate quante pokeball mi erano rimaste. Ho utilizzato tutto quello che avevo. Ho ottenuto le ultime Ultra Ball, l'abbiamo preso. Io non ho veramente parole. Voglio tornare subito a casa. Voglio andare a vedere Mewtwo Shiny. Wow. Wow. Wow, veramente. Wow, gigantesco. Grande quanto. Una casa enorme. Dov'è? Dov'è? Andiamo, 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 andiamo. Corriamo come dei matti. Quindi Mewtwo Shiny è con noi, ragazzi. È nella mia squadra all'interno di una repeat ball. Guardate che spettacolo. Abbiamo catturato Mewtwo Shiny, ragazzi. Però il nostro obiettivo è quello di catturare anche quello corazzato. Vedete? Non ha attacchi, a parte Psycho Cut. Comunque, di dimensioni è molto più grande che quello mio normale, che ho sempre utilizzato. Quindi utilizzerò probabilmente sempre questo, da ora in poi. E lo migliorerò all'attacco altissimo, alla difesa un po' bassa, però fa niente, ragazzi. Abbiamo catturato Mewtwo Shiny, ma non è finita qua, ragazzi. Vedremo cosa succederà nel tempo. Io intanto vado a mettere, quindi, una bella bambolina di Mewtwo nella mia stanza di sopra. La mettiamo magari qua a terra. E, in più, questa l'altra bambolina la andiamo a regalare direttamente nella casa del buon Kendalino. Però non so dove metterla, perché non mi ricordo. Perché una parte l'abbiamo messa con il Charizard Shiny. E a sto punto la possiamo mettere qua. Sì, che bella, ragazzi. Che bella, che bella. Ok, ragazzuoli. Spero che questo video qua della Pixelmon vi sia piaciuto. Mamma mia, cosa è successo nell'episodio di oggi. Davvero epico. Noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, se non le notifiche, scegliete uno dei video qua davanti. Vi ricordo che tutti i giorni escono due video al giorno sul mio canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Scegliete uno dei video qua davanti. Iscrivetevi, attivate la campanella, se non le notifiche. Ciao, ciao!